bene ragazzi allora oggi oggi praticamente facciamo vedere il terzo video che ci ha fatto il professore Antonio Vilasi il terzo video parlerà dei canalini melanici naturalmente dei quattro tipi base e di tutte le mutazioni aggiuntive quelle naturalmente riconosciute dalla comma quindi vi invito a vederlo perché è qualcosa di veramente interessante e quindi naturalmente ascoltate il maestro Antonio buongiorno a tutti oggi inizieremo il terzo video che parla dei canalini melanici in questo video troveremo le descrizioni che vengono quasi tutte riprese da parte dei criteri di giudizio del canarino di colore e le foto che vedete a descrizione del tipo non sono riferenti allo standard ma sono riferenti soltanto a vedere le caratteristiche tecniche del canarino e morfologiche ricordiamo che i melanici hanno sempre nella loro nomenclatura un tipo base un tipo aggiunto una categoria o una varietà oppure soltanto tipo base categoria e varietà le dei tipi esclusi da questa nomenclatura sono peo satinè feo satinè dalla grigia che vedremo in seguito i tipi base sono nero bruno agata e isabella il tipo base nero nel canarino è la massima espressione del disegno del colore nero che deve essere continuo lungo largo e netto deve avere becco e zampe ossidate leomelanina che è quella che la melanina che forma il disegno deve essere di colore nero qui abbiamo quattro esempi del canarino nero nero mosaico rosso nero intenso rosso nero bianco e nero intenso giallo il tipo base bruno del canarino è l'espressione del disegno sostanzialmente identica a quella del nero soltanto che leomelanina che è la melanina che struttura il disegno deve essere di colore bruno anche in questo caso becco zampe unghie non sono nere ma sono brunastre il tipo base bruno possiamo vedere delle foto come possiamo vedere bruno mosaico rosso bruno mosaico giallo bruno intenso rosso come vedete qui la melanina è bruna e non nera il tipo base agata è un nero ridotto quindi in questo caso c'è il primo fattore di riduzione la concentrazione del nero al centro delle penne e piume con massima riduzione della feomelanina la feomelanina sarebbe il fondo il l'interstita tra disegno e disegno c'è un'ampia bordatura di grigio perla sulle remiganti e timoniere deve avere le stature sulla testa torse e fianchi sottili interrotte simmetriche in questo caso becco zampe e unghie devono essere di colore carnicino ecco qui i canarini in dimostrazione il tipo base sabella è stato nominclato tipo base ma è una sovrapposizione di tipi tra bruno e agata la livra è costituita da melanina bruna cioè il disegno è fatto da disegno marrone il disegno è simile a quello dell'agata l'occhio appare di un colore rosso scuro becco e zampe e unghie sono carnicine vedete l'isabella moseco rosso l'isabella moseco giallo isabella intenso giallo i tipi aggiunti a questi quattro tipi aggiunti abbiamo sovrapposto molte e molti altri tipi per esempio abbiamo il pastello l'opale il topazio l'onice il cobalto jaspe e il mogno e il perla sono tipi che vengono sovrapposti al tipo il feo e il satinè sono tipi che vengono riconosciuti in un unico tipo singolo che ora vedremo la mutazione pastello nel canarino è una mutazione che crea le melanine un effetto di color pastello quindi riduce le melanine e le afeomelanina i tipi riconosciuti nel pastello sono nero pastello il pastello essendo un fattore quantitativo se si seleziona andrà a decadere e in questo caso gli allevatori l'hanno selezionato creando il canarino alla grigia che non è altro che un nero pastello selezionato verso la diluizione dopo di che c'è il bruno pastello lagata pastello l'isabella pastello la mutazione pastello non interagisce sul colore di zampe unghie quindi nel nero pastello nella grigia avremo le zampe unghie nere il becco nero nel bruno pastello avremo le zampe color bruno agata e isabella pastello avranno le zampe color carnigone come vedete la differenza è netta tra nero pastello e alla grigia eppure sono lo stesso tipo di canarino con selezioni differenti abbiamo l'agata pastello bianco è il bruno pastello e l'isabella pastello il tipo pale nel canarino di colore modifica le penaline creando degli effetti molto particolari nella struttura del disegno e del fondo non è legato al sesso perché la mutazione recessiva e crea un effetto azzurrino nel disegno becco e zampe unghie non vengono toccate dalla mutazione i tipi riconosciuti sono nero pale bruno pale agato pale e isabello pale il tipo feo nel canarino la mutazione feo sia nei quattro tipi base però nell'agata e nell'isabella non viene riconosciuto in quanti canarini sembrano degli ipocromici occhi rossi mentre nel nero e nel bruno ha la stessa manifestazione fenotipica molto simile anche se quella più selezionata è quella del bruno perché nel nero crea spesso nella linea centrale quindi si è scelto di riconoscere un'unica nomenclatura con la voce feo è una mutazione albinoide recessiva e i canarini che subiscono questa mutazione hanno l'occhio rosso quindi possiamo vedere il feo mosaico rosso il feo bianco il feo intenso giallo e altri tipi di canarini la mutazione satinè anche questa è stata scelta di utilizzare un'unica nomenclatura perché nel nero e nell'agata crea un canarino lipocromico occhi rossi nel bruno si sta avvenendo di riconoscere il bruno satinè anche se lì ho molti dubbi perché sarebbe un canarino con occhio rosso con disegno lungo mentre il satinè la sua massima espressione la massima ad oggi riconosciuta è quella dell'espressione isabella satinè intenso giallo avorio satinè mosaico rosso satinè bianco il satinè è un canarino occhi rossi il tipo d'opazio il tipo d'opazio esercita un'azione apportando modifiche all'omelanina sia nera che bruna e riducendo fortemente la feomelanina il canarino d'opazio nascono con occhio rossiccio nel bruno e nell'isabella l'occhio rossiccio permane anche quando sono adulti nell'agata e nel nero non c'è il tipo d'opazio ha una caratteristica peculiare è il contrasto tra disegno e fondo più sono contrastati più il disegno è contrastato dal fondo più il topazio è tipico o l'altra tipicità del canarino d'opazio è che i cani d'opazio hanno l'arrachide chiara i tipi riconosciuti in questo tipo sono nero d'opazio bruno d'opazio ragazzo d'opazio e isabella d'opazio la mutazione d'opazio interagisce su becco zampe e unghie rendendo le carnicina in tutte e quattro le sue manifestazioni il tipo eumo nel canarino la mutazione eumo è recessiva e il tipo eumo riduce quasi totalmente la feomelanina lasciando vedere solo la melanina peraltro ridotta provoca in tutte e quattro i tipi la tegmentazione dell'occhio che è poco evidente nel nero mentre negli altri tre è molto evidente i tipi riconosciuti sono nero eumo bruno eumo agata eumo becco e zampe e unghie sono carnicine anche se nel nero adesso si inizia ad avere una melanizzazione delle unghie quando sono molto tipici il tipo onice nel canarino esercita un'azione riducendo leomelanina e la feomelanina lasciando però inalterata la dimensione del disegno l'onice è una mutazione recessiva il fattore onice conferisce una differenza di effetto fuliginoso e quindi sembra un canarino sporco tra virgolette il becco e zampe e le unghie devono essere mantenute come il tipo base cioè nei neri devono essere ossidate nel bruno devono essere brunastre nell'agata devono essere carnicine gli unici tipi riconosciuti sono nero bruno e agata il tipo cobalto nel canarino è una delle poche manifestazioni fenotipiche che aggiunge qualcosa e non riduce in parole crea la situazione a stendere la melanina fino all'estremità di tutte le penne le piume in particolar modo evidente sul petto fianchi ancora più palesemente sul ventre che diventano scuri mentre il disegno è poco ridotto ma tanto il fatto può succedere specialmente nei neri il comportamento genetico è recessivo le zampe unghie becco devono essere come il tipo base i tipi riconosciuti sono nero cobalto bruno cobalto agata cobalto isabella cobalto anche se la manifestazione cobalto nell'agata nell'isabella può creare qualche problema nel riconoscerlo vi faccio vedere ho voluto portare un agata cobalto appagno al vento in su è un nero cobalto come potete vedere la melanina arriva fin sotto il codione quasi rendendo un tutt'uno e non avendo più lo stacco bianco del codione nei canarini con altre manifestazioni fenotipiche il tipo jaspe nel canarino modifica la tonalità delle melanine sull'arraghi e sul bordo delle penne entro queste zone scure la melanina è più chiara e forma il disegno offrendo un bel contrasto la testa e i fianchi sono nettamente disegnati un'altra caratteristica dello jaspe è la barratura alare e la barratura caudale cioè nella coda becche zappe unghie hanno lo stesso colore dei canarini selvatici è una mutazione dominante in italia riconosciuto soltanto il singolo fattore anche se si può avere il doppio fattore questo lo vedremo quando faremo il video sulla genetica i tipi riconosciuti nello jaspe sono il nero jaspe singolo fattore sd significa singolo fattore gruno jaspe sd agata jaspe sd isabella jaspe sd come vedete anche qui ho portato delle foto a guardare un attimino il tipo di canarino il tipo mogno nel canarino sono caratterizzati dalla modifica delle melanine nere e brune dall'assenza di feo melanina visibile ma non produce nessuna azione su becco zampe unghie come abbiamo visto e leo melanina rimane rimane situata sulla parte superiore delle penne il disegno deve essere identico al tipo base i tipi riconosciuti sono solo gli ossidati in questo momento cioè nero mogno e bruno mogno il tipo perla nel canarino è un tipo di nuovissimo riconoscimento è riconosciuto in questo momento solo in italia si è iniziato forse il riconoscimento a livello internazionale e ancora ci sono molte controversie sul quale deve essere la tipicità anche se in questo momento la ctn ha isolato uno standard che potete leggere su questa diapositiva il tipo riconosciuto è soltanto il nero perla per chi vorreste approfondire può trovare i miei libri su amazon sia in lingua italiana sia in lingua spagnola le foto sono prese da internet e quindi se qualcuno riconosce qualche suo canarino non si preoccupi soltanto per formazione didattica ringrazio a tutti per l'attenzione e buon pomeriggio bene ragazzi allora abbiamo seguito quest'altra ulteriore lezione credo che un po le idee siano un po più chiare naturalmente quindi questa è una testimonianza importante per come dire per chiarire alcuni alcuni tipi di canarini melanici quindi serviva anche a me questa questa lezione io vi abbraccio tutti e naturalmente ci vediamo molto presto e a presto ciao ragazzi ciao